Sì, la cosa è molto interessante, che dire, io ho fatto degli studi in realtà che portavano in altre direzioni e avevano altri scopi, non certo quello di verificare le frequenze e il cervello umano, ma poi mi ci sono trovato nel mezzo, perché magari uno cerca delle cose e ne trova delle altre e così mi sono trovato ad analizzare come funziona il cervello e come funziona il cervello vuol dire come esso risponde a certi stimoli esterni, quali le vibrazioni, tra cui le vibrazioni sonore, ma non solo, anche quelle del colore per esempio, attraverso gli occhi, non solo attraverso le orecchie. E così ho creato un test che si chiama Triade Color Test, in cui il cervello fa vedere, vede, simula, immagina l'universo come fosse un universo a colori, ma si può fare anche con i suoni e ho espanso questo tipo di test cerebrale, una simulazione mentale che tutti possono fare ai suoni. In altre parole, il nostro cervello sembra, l'ho provato su qualche migliaio di persone, sapere che lo spazio si divide in davanti e dietro, destra, sinistra e alto, basso e a ogni punto di riferimento, quindi sono sei punti di riferimento, esiste una frequenza sonora ben precisa. Va detto che il nostro cervello, secondo il mio modestissimo punto di vista, vede l'universo come un universo finto, cioè non si muove nulla, non c'è nulla, il tempo non c'è, l'energia non c'è. Secondo la fisica moderna di questo signore che si chiama Bohm, che è un fisico contemporaneo di Einstein, l'universo è non locale, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste per esempio lo spazio e non esiste il tempo, ma tutto accade in un unico istante, ma noi crediamo di vedere le cose che si spostano, che vengono verso di noi o che si allontano da noi. In realtà il nostro cervello assume certe condizioni di contorno e crede di vedere gli oggetti che si allontano e si avvicinano, per esempio vedendone cambiare il colore oppure sentendo che il suono degli oggetti corrispondenti cambia. Tutti sanno perfettamente che una fonte sonora, come quella di un'ambulanza che viene verso di te ha un suono stridente, ma quando si allontana da te ha un suono molto più basso, invece quello che ascolta questo suono e che sta guidando l'ambulanza sente sempre lo stesso suono. E questa è un po' la base della teoria della relatività, che per me è una teoria molto vecchia. Questo per dire come il suono in qualche modo ci fa capire, percepire che le cose si avvicinano, si spostano nello spazio esterno a noi e fanno delle cose. Noi ci correliamo con lo spazio esterno anche attraverso i suoni. Allora, non a caso esiste una cromoterapia, non a caso esiste una sound therapy, cioè una terapia del suono, il nostro cervello non solo è influenzato dal rumore, detta proprio in termini banali, ma risponde al rumore che ascolta in un certo modo. Alcuni colori sono quelli che ti fanno stare bene, alcuni colori sono quelli che ti fanno stare male, alcuni suoni ti fanno stare bene, alcuni suoni ti fanno stare male. Non a caso esiste una teoria, una ricerca americana, ovviamente quasi tutto è sotto controllo militare, la ricerca scientifica non esiste più, è solo una ricerca militare negli Stati di America, perché sono gli unici che hanno un po' i soldi per fare la ricerca, che è coperta da quello che è il grandissimo progetto MK Ultra, MK Ultra vuol dire mind control, cioè controllo della mente e in questo grande calverone che è il mind control c'è il suono, cioè ci sono delle armi soniche, subsoniche, infrasoniche, che se proiettate contro il nemico, il nemico non si accorge di sentire, di ascoltare una musica, perché magari è infrasonica, quindi te non la senti, ma in realtà il tuo cervello in qualche modo ne viene colpito e il soggetto viene paralizzato, si sente male, vomita, non è più in grado di combattere, ha delle crisi, vede delle immagini nel cervello che non esistono, di tutto di più, così come ci sono progetti che si possono vedere anche su internet, sempre di natura militare, che mostrano come microchip introdotti nel cranio, producano delle vibrazioni, cioè dei suoni, che ti fanno vedere lo slide show nel cervello che non esiste, ascoltare un suono che non c'è e farti cambiare umore, ci sono dei progetti di questo tipo che servono per il cambiamento della coscienza del paziente che ha il microchip nel cranio, sono tutti progetti che sono assolutamente visibili, se voi potete andare a vedere, nell'ufficio brevetti americano e ci sono tutte le informazioni più o meno interessanti per comprendere che il suono ha qualcosa a che fare con il cervello. Ora, detto questo, quando mi sono interessato del problema suono, mi sono interessato di questo problema solo perché volevo comprendere come il cervello umano si relazionasse all'esterno, cioè vedesse l'universo come in realtà è costruito. Il cervello crea un'immagine dell'universo che non solo è un universo geometrico, che è regolato da simmetrie particolari e operazioni di simmetria, che poi sono banali perché sono 3 o 4, sono la traslazione, la rotazione, il cambiamento di dimensione e il piano di simmetria. Pensate che su queste 4 cose si basano tutte le operazioni geometriche dell'universo, sono 4 parametri fondamentali, il nostro computer funziona solo su queste 4 cose. Ebbene, queste 4 cose possono essere legate a un'onda, seno di omega t più fi, dicono i fanatici della matematica, le onde. Tu vedi, credi di vedere una cosa che si allontana, in realtà senti il suono che cambia e tu credi che l'oggetto si allontani da te, mentre per la fisica di Bohm nulla si allontana e nulla si avvicina da te, ma è una grande matrix, tremenda questa cosa, in cui tu credi che le cose si allontanano, si avvicinino e si muovano, ma in realtà tutto sta fermo. Dove il tuo cervello o la tua mente, che sono due cose differenti, perché la mente ha coscienza di sé, il cervello è solo un pezzo di carne che non conta niente, comunque questi due oggetti, mente e cervello, lavorano per darti una idea di quello che è il mondo esterno a te, dove tu sei il creatore del mondo esterno e quindi produci all'esterno tutti quegli effetti che credi che ti vengano addosso, invece sei tu stesso a produrli. Chiaro che questo è un concetto che distrugge completamente tutta quella che è la fisica moderna, tutta quella che è l'idea della politica, della religione, del modo di vivere, del buono e del cattivo, dell'acceso dello spento, della dualità, dove la dualità in realtà non esiste perché sei tu che la crei, ma il suono produce in te un effetto e il suono è qualche cosa verso il quale tu vai incontro, il suono è vibrazione, tutto l'universo è vibrazione, tu produci la vibrazione ed è chiaro che se incontri un malintenzionato, un militare di turno, il quale sa e conosce bene questo aspetto della biologia del cervello e produce un suono che ti copra il tuo, te lo equalizza, te lo annulla, quello che tu hai prodotto, che potrebbe essere uno stato estatico, uno stato di piacere, uno stato di gioia, viene distrutto, eliminato, stravolto e modificato da agenti esterni prodotti da altri. In questo contesto è chiaro che la sound therapy ha un suo significato preciso, guardi un colore e sei più tranquillo, senti e ascolti un suono e sei più cosciente di te. Ora, va sottolineato che da quando il mondo esiste, i governanti non hanno mai voluto che tu capissi qualcosa, perché? Perché se tu capisci per 40 anni Andreotti è col cazzo che lo rivoti, oppure Berlusconi è col cazzo che lo rivoti e allora è bene che la gente rimanga un po' rincoglionita e per rincoglionire la gente ecco che vengono fuori le ipotesi che sembrano uscite dal cappello di un mammo, per cui ci sono in giro nell'ambiente delle fonti di radiazioni che non sono sonore o colori, che non sono proprio quelle giuste per te, ma che in qualche modo disturbano la tua coscienza, la tua capacità di comprendere e tutto quello che ne è legato. Io per tanti anni ho studiato il fenomeno delle aduzioni aliene, che per alcuni può sembrare una cosa fuori del mondo, gli alieni, ma figuriamoci se gli alieni vengono qui e ci rompono le balle a noi, però quello che si è scoperto con la tomografia laterale, con la risonanza magnetica a computer, con tutte le tecniche di medical imaging, cioè di fotografare quello che tu hai dentro il corpo, che questi poveri disgraziati che vengono identificati come addotti e non sono affatto pazzi, hanno nel proprio cervello un piccolo microchip di 2,5 mm di fronte alla ghiandola pineale che emette delle particolari onde cerebrali che trasformano la ghiandola pineale in una ghiandola che secerne un po' a caso, melatonina e serotonina e che producono variazioni psicologiche e psicosomatiche molto gravi. Io ho letto, mi ricordo tantissimi anni fa, fui incaricato da una giornalista italiana di verificare se scientificamente esistesse della letteratura che parlava dell'inquinamento da microwaves, cioè da microonde, dai telefonini e io scoprì che c'era di tutto, cioè quello che oggi chiamiamo un telefonino, te lo metti vicino all'orecchio e ti spara delle microonde sulla ghiandola pineale e questo telefonino poteva produrre di tutto, dall'allungamento del periodo di partogenesi delle donne alle malattie più strane, ai momenti di confusione e c'erano dei lavori scientifici, mi ricordo tantissimi anni fa alcuni lavori scientifici all'Università di Pisa presero degli studenti, li pagarono perché i poverini non sapevano come recuperarli, li misero nella stanza e li bombardarono con alcune onde a 50 Hz di frequenza in quel periodo, mi ricordo il lavoro, l'ho letto tanti anni fa e i soggetti cominciarono ad avere analgesia all'apparato dentario, non sapevano più dove erano, non sapevano in che tempo erano, insomma a secondo della musica che sentiamo è evidente che il nostro umore cambia e se noi sappiamo queste cose sappiamo anche difenderci dalla musica cattiva, se non sappiamo queste cose qualcuno ci offre della musica che non è proprio tonica per noi. Grazie per la visione!